mi vuole far far quello però dici si si fa si fa, pensavo peggio la punta del secondo, la punta del secondo sasso la doppia, si vuole la doppia sono andato giù si è passato davanti eh ma è uscito, sono andato giù devo tenerla alta eh devo stare un po' più indietro perché ho fatto il secondo ma sono andato giù guarda la prossima volta hai chiamato una zona strong si che porto anche per la schiena grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti la gamba a lunga mi ha salvato cazzo eppure mi veniva meglio prima ora sono contento basta grazie a tutti grazie a tutti